Riapre il cantiere sulla E45. Dalla procura di Arezzo è infatti arrivato il nulla osta per il proseguo dei lavori di messa in sicurezza sul viadotto Puleto, sotto sequestro per rischio collasso dallo scorso 16 gennaio, lavori che dovranno essere eseguiti da ANAS. Una volta conclusi e se non mi saranno ulteriori riscontri negativi, il tratto potrebbe riaprire anche a camion e tir. L'autorizzazione alla ripresa è arrivata a conclusione dell'ispezione richiesta dal GIP ed affidata al professor Claudio Modena. Il procuratore capo di Arezzo, Roberto Rossi, questa mattina ha così notificato ad ANAS l'autorizzazione alla ripresa dei cantieri. L'azienda adesso potrà procedere alla conclusione delle opere di messa in sicurezza, con la sostituzione di Baggioli e Garrail. Come più volte annunciato da ANAS, per la definitiva conclusione delle opere i tecnici hanno stimato una tempistica di circa due settimane, dopodiché il viadotto Puleto potrebbe essere riaperto anche a camion e tir. Al momento è percorribile solamente mezzi leggeri e a una velocità massima di 40 km orari.